Questa volta per Comics on Vacation mi sono letto questa miniserie da tre Savage Dragon, Pioggia di Sangue, titolo originale The Dragon, Blood and Guts, cioè sangue e budella scritta e disegnata da Jason Pearson che occasionalmente nel 1995 ebbe l'occasione, ebbe la concessione da parte di Eric Larson l'autore e disegnatore padre di Savage Dragon, di dedicarsi a questa miniserie da tre in cui gli fu concesso per l'appunto di fare una storia quanto più palpiana, action, cazzuta possibile devo dire il risultato veramente riuscitissimo. Lo stile di disegno di Pearson è assolutamente molto cartonistico ma non troppo diciamo, non in modo eccessivo e soprattutto la storia riesce a divertire, a essere cazzuta a essere piena di sorprese, di colpi di scene, ci sono anche piccole piccole citazioni a Tarantino, John Woo Long Ranger, insomma ci sono anche diverse citazioni quindi alla cultura pop e devo dire, insomma, quindi una bella miniserie da tre fatta in perfetto stile dragonesco quindi, dopo tutto, Jason Pearson è riuscito a cavarsela grazie a tutti